Benvenuti, siamo anche oggi su quello che è il mondo di TypeScript, dove andremo a vedere qualcosa che non è relativo proprio solo a TypeScript, ma siamo nell'ecosistema di React TypeScript. Quello che andremo a chiarire oggi è un qualcosa in cui ci si scontra più del previsto, e quella che è la differenza tra un ReactNode e un JSXElement. Tante volte uno si ritrova l'errore che magari appunto un componente accetta e vuole solo appunto un JSXElement piuttosto che un ReactNode. Ma quella è la differenza sostanziale tra questi due elementi. In questo caso noi non abbiamo un'app in React, ma stiamo appunto solo utilizzando quelli che sono i types in React, appunto abbiamo solo installati quelli che sono i types, è qualcosa di molto semplice, serve solo per vedere quando l'inter va a piangere e ci avvisa che qualcosa non stia funzionando in maniera corretta. Prima di andare ad assegnare quello che è un valore, inseriamo all'interno di questo array quello che appunto è un div di example. In questo caso il nostro ReactNode non piange. Se andassimo anche in questa cosa ad inserire un div con scritto example, anche in questo caso niente sta piangendo. Allora dove arrivano le differenze? Che se io vado all'interno di un ReactNode e gli assegno appunto la string example, gli assegno quello che è magari null, gli assegno quello che è, mi sono dimenticato una virgola qua, gli assegno quello che è undefined, magari undefined o gli assegno comunque 1, 2, 3, ok? Io mi trovo nella condizione in cui non ottengo nessun errore. Se io mi riportassi questo esatto tipo di struttura all'interno del mio JSX Element, ecco che tutto ciò che non è appunto un JSX Element, ok? Tutto ciò che non è un JSX Element mi segnala un errore. Quindi qua è la differenza. La differenza sostanziale è che un ReactNode è tutto ciò che React è in grado, di cui React è in grado di effettuare un render. Noi quando andiamo all'interno del nostro componente, se io passo 1, 2, 3, undefined, null o una stringa lanciata così nel nulla, React è in grado appunto di fare il render di questo elemento. Mentre un JSX Element esige che gli venga passato solo e unicamente quello che è un elemento costruito appunto con quella che è la sintassi di React, che sia proprio del JSX. Quando gli passo tutte altre proprietà, nonostante null, diciamo, rappresenti quello che può essere un children vuoto, anche in questo caso non è sufficiente. Deve essere un children che appunto non è vuoto, non è null, deve essere un elemento che è sempre esistente, non ha una condizione in cui, ad esempio, se c'è un if qualcosa ritorna null, o non ritorna nulla, deve sempre ritornare qualcosa e tutti gli altri elementi non sono accettati. Ok, quindi questa è la differenza sostanziale. Ripetendo, abbiamo che la differenza principale tra quello che è un ReactNode e un JSX Element, altro non è che quando utilizzo un ReactNode e pretendo di ottenere appunto dentro il mio componente, nel mio array, dove voglio un ReactNode, sto richiedendo di farmi passare tutto ciò che React è in grado di renderizzare, quindi string, undefined, null, numeri, array, appunto anche del JSX. Quando richiedo un JSX, invece, ho bisogno ed esigo di ritornare sempre del JSX, nient'altro che non sia del JSX, nonostante appunto all'interno di un componente di un children, example, null, undefined, 1, 2, 3, siano accettati e React sia in grado di fare un render, io esigo di ottenere un React Element che non ritorni mai null, o comunque non ritorni mai niente, che appunto non sia un vero e proprio componente.